Ha ritrovato il padre dopo 18 anni, ma invece che una riconciliazione gli ha chiesto i danni. Il padre l'aveva infatti lasciata per andare a Mantova. Lei, dopo 18 anni, rimasta ad Arezzo, lo ha ritrovato e gli ha fatto causa, per non averla sostenuta né moralmente né tantomeno economicamente. Inutile erano stati i tentativi della giovane di allacciare ogni rapporto. Così il giudice del Tribunale di Mantova ha stabilito che l'uomo dovrà corrispondere alla ragazza 1.000 euro all'anno fino al diciottesimo e 500 euro dopo aver superato questa soglia. Dopo la nascita della bambina, il padre era andato a abitare a Mantova e lì si era fatta una nuova famiglia. La ragazza gli ha fatto causa appena maggiorenna, aveva chiesto un risarcimento di oltre 100.000 euro. Secondo l'avvocato aretino Jacopo Gori, legale della ragazza interpellato dal quotidiano Il Giorno, il giudice ha ritenuto superfluo persino a sentire numerosi testimoni indicati dalla giovane, dato che il padre non ha mai negato la circostanza di non averle prestato assistenza morale oltre che materiale. L'importanza della sentenza, prosegue l'avvocato Gori, sta proprio nel riconoscimento di un danno esistenziale per effetto della lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, ossia quello alla famiglia e a un normale rapporto con entrambi i genitori, in termini di accompagnamento alla crescita e non soltanto in senso classico patrimoniale, come siamo abituati a pensare.